siamo a cesenatico dove ci sono questi grandi vetrate tutte fatte su misura dove siamo riusciti a integrare una zanzariera all'interno del seramento completamente integrata la zanzariera come puoi vedere ha un'apertura molto resata la posso fermare in qualsiasi posizione e la vetrina pur essendo completamente vetrata e con un vetro extra chiaro è realizzata in con sistema blind dato quindi è una vetrina molto molto sicura ed è una vetrina molto molto luminosa ora quando è arrivata giù tutta la zanzariera voglio farti vedere qualche altro dettaglio come ad esempio tutta la lavorazione che è stata fatta sull'acciaio con dei profili molto molto sottili veramente minima con la scatola serratura che una maniglia voluta dall'architetto la serratura di sicurezza di fuori abbiamo come delle pinne che vanno a interrompere tutti i vetri che abbiamo delle serature con integrato il catenaccio per poter sbloccare completamente la vetrata la faccio vedere un pochettino più da lontano e poi è possibile aprire anche questa seconda parte questa seconda parte è stata fatta in moduli diversi per poter essere integrata in questa l'inchia completamente a scomparsa nel suo modulo ultima cosa ma non meno importante questo materiale altamente performante dal punto di vista termico con questo materiale possiamo separare l'esterno dall'interno quindi abbiamo una vetrata molto termica molto sicura molto luminosa e completamente ariosa nell'utilizzo estivo la porta funge come passaggio e la parte che normalmente potrebbe essere fissa in questo caso è totalmente apribile con zanzariera che qui acceso in attico vicino al porto canale siamo sul porto canale di leonardo da vinci viene anche molto molto comodo per passare basta alzare la zanzariera è tutto motorizzato tutto collegato alla domotica e basta spingere un tasto e lei si apre in automatico ciao e al prossimo video